Ma se la Juve ci ha messo 81 minuti per battere questi e noi già stiamo 2 a 0 Voglio dire, io sentirei, che ne pensi, che ne pensi di questa cosa Se la Juve, se la Juve ci ha messo 81 minuti Ma poi la Juve mi ha segnato, noi siamo pastore che ha segnato di tacco Quindi pastore è più forte È più forte di Dybala, di Ronaldo